Maria Gripe ha scritto favole per ragazzi, testi che raccontano storie complesse e che spessano a che vedere con il lato oscuro della vita. C'è sempre qualcosa di oscuro nelle favole di Maria Gripe che sempre racconta come la vita di tutti i giorni è apparentemente tranquilla, quella che noi conosciamo, in cui tutte le cose sono quelle ovvie, comuni, che sempre si fanno tutti i giorni, possono nascondere doppi fondi, trabocchetti, porte segrette. I figli del Mastro Vetraio, edito da Iperborea, è un libro che racconta una storia che è una fiaba quasi di gusto antico. Siamo in una terra, che è la terra di penuria, come dice il nome, la miseria è dappertutto. Il protagonista è un Mastro Vetraio, un uomo che crea bellissimi oggetti di vetro e che ha il gusto perfetto per crearli, ma non sa minimamente venderli. Perciò la famiglia deve assistere al Mastro Vetraio che continuamente annuncia di aver creato vasi sempre più belli, ma che questi vasi, d'altra parte, non portino alcun tipo di beneficio al mondo familiare. Perciò, all'ennesimo fiasco, alla fiera del paese, accade che la madre pronunci una formula sgradevole. Dica dei figli, che pure molto ama, ma in un momento di fastidio non si rende nemmeno conto di quello che dice, che in realtà le sono soltanto d'impiccio, le creano soltanto fastidio. E lì il dramma inizia. Il Mastro Vetraio, un giorno, alla fiera del paese che per lui era sempre stato luogo di sconfitta, dove niente aveva venduto, si vede di fronte un cocchiere, un uomo che sta su una carrozza ricca, lussuosa, e questo cocchiere dà fuori una somma importante, molti soldi, per comprare i vasi che fino a quel momento nessuno aveva mai voluto acquistare. Ed ecco che improvvisamente il benessere entra nella casa, i soldi vengono investiti, ma c'è qualcosa dietro l'angolo. Alla fiera c'è una donna strana che tutti ritengono dotata di poteri magici. Si chiama Svolazza Bel Tempo. Svolazza Bel Tempo crea degli strani tappeti che tesse in casa sua che hanno dei disegni e delle figure. In quelle figure ella legge il tempo e legge il futuro. E così fa anche con la signora, la moglie del vetraio, che vuole investire qualche soldo che il marito ha guadagnato per una volta nel conoscere il proprio futuro. Ma Svolazza le legge la mano e dice no, non voglio. Ti dico solo tu hai un anello, se avrai bisogno di me. Mandamelo e io ti aiuterò. Il marito invece vuole sfidare la sorte, insiste e insiste e alla fine Svolazza Bel Tempo gli legge la mano, ma quello che gli dice è terribile. I bambini sono in pericolo. Da quel momento, lui che era sempre stato in laboratorio per fare vasi sempre più belli, non vuole mai più andarci, vuole stare in casa. Sempre va a controllare nella loro stanza che i bambini siano il sicuro, a paura che qualcuno li rapisca. E ciò accade. C'è un reame, un reame che è l'esatto posto di penuria, un reame in cui tutto è ricchissimo, un reame in cui ci sono solo oggetti preziosi, e in questo reame vi è un re che ha una regina che è triste perché non ha desideri, perché tutto quello che può pensare il re ancora prima che lei lo nomini, immediatamente glielo dà. E perciò la regina è triste, rabbiosa e non vuole in alcun modo vivere con felicità. Prima gira per le infinite sale del suo castello con dei levrieri neri, lugubri, quanto eleganti. Poi, quando arrivano i bambini, che sono vestiti di tutto punto, è contenta, ma i bambini vivono sospesi, non si ricordano più chi sono i loro genitori poveri, un incantesimo li ha presi, vivono vestiti di abiti di lusso enorme, sono ricchi, ma la loro ricchezza non gli dà niente perché non hanno altri bambini con cui giocare. Gli unici altri bambini che esistono sono quelli che vedono nel fondo di uno specchio. Li vanno a cercare, non hanno compreso che sono loro stessi. Un giorno la regina che si annoia subito di tutto si annoia dei bambini perché la bambina sgualcisce il suo abito e il bambino si macchia il perfetto bavero di pizzo. Per questo giunge una bambinaia grande, grossa, mangiona. Si chiama Nana. Nana, maltratta i bambini che ormai sono stati abbandonati dal re e dalla regina e li costringe a fare tutta una serie di esercizi senza senso. Li costringe a cantare urlandogli nelle orecchie. Continuamente vuole mangiare ogni mezz'ora e quando dorme russa talmente forte che tremano tutti i muri delle stanze. I bambini sono terrorizzati finché un giorno la regina senza desideri a forza di non desiderare niente si ammala. Quasi muore. Nessuno sa che cosa abbia. Perciò nella foresta vicino al castello si mettono dei cartelli con scritto Maghe siete richieste a palazzo. è necessario curare la regina. Svolazza bel tempo arriva dalla regina che è quasi morente stanca senza energia e la fa talmente arrabbiare che la regina si riprende. Si riprende e la detesta sempre di più chiede al marito di mandarla via ma il marito non lo fa perché comprende che queste conversazioni di pomeriggio in qualche modo danno alla regina in una nuova energia e lì si scopre che la balia Nana è la sorella perduta di svolazza del tempo ma se svolazza di insieme a mangiare molto è sempre stato il desiderio principale è la sua esistenza. In un duello di magia svolazza vince i bambini sono resi ai loro legittimi genitori e recuperano la memoria e dall'altra parte il re e la regina finalmente si comprendono perché la regina chiede qualcosa di irrealizzabile al re e per questo il re finalmente per una volta non esaudisce il desiderio che lei ha e lei ne è così contenta perché delle rose in pieno inverno l'avrebbero annoiata subito mentre il desiderio rimane di lei e sarà di lei per sempre. Maria Grippe con fiabe di gusto antico come quella dell'Ottocento racconta un mondo dove i desideri e le paure debbono essere messe in gioco entrambi gli elementi per riuscire a trovare una propria identità più completa e questo vale tanto per i bambini quanto per gli adulti. grazie a tutti grazie a tutti